Questa mattina la Guardia di Finanza ha eseguito sei misure cautelari, provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Verona su richiesta della Procura della Repubblica, il tutto nei confronti di un medico competente in medicina del lavoro, due suoi collaboratori, due impiegati dell'Inps di Verona e un finanziere. Il tutto come conseguenza di una complessa indagine volta in partenza a far luce su intermediazioni illecite e sfruttamento della mano d'opera, in una parola caporalato, nella provincia di Verona e condotta dai finanzieri della compagnia di Soave e che ha portato a ulteriori sviluppi. È stato accertato l'illecito utilizzo dello strumento del prestito di mano d'opera ad uso di alcune cooperative, il cui responsabile poi è stato tratto in arresto nel marzo di quest'anno, come sapete, e nell'ambito di quelle indagini si è poi accertato, e sono infatti recentissimi, che in particolare un medico anche con la collaborazione dei funzionari dell'Inps a danno della stessa Inps e delle commissioni di verifica rilasciava certificati non genuini, falsi, su due direttrici diverse. La prima proprio a favore dei lavoratori che devono essere resi dichiarati idonei per svolgere quel tipo di attività, che a volte neanche si presentavano alle visite mediche, altre volte non avevano nemmeno i documenti di riconoscimento, ma nel contesto di questa investigazione è emersa anche un'altra particolarità perniciosa, che è quella di rilasciare sempre in danno dell'Inps certificazioni di vario tipo che mettessero in condizioni la persona richiedente di ottenere benefici altrimenti non ottenibili, invalidità, pensioni, assegni di sostegno. L'indagine si è sviluppata tra marzo e giugno di quest'anno e la Guardia di Finanza ha appurato che sono 42 le persone che avrebbero beneficiato di false documentazioni mediche per ottenere pensioni di invalidità oppure indennità di accompagnamento non dovute. Ovviamente non si escludono ulteriori sviluppi. Sì, non lo escludiamo. Il periodo di osservazione è stato anche abbastanza breve, parliamo di tre mesi in cui abbiamo potuto intercettare queste tipologie, circa 40 casi. Quindi non escludiamo che nel passato ci possano essere altri casi. In questo evidentemente la collaborazione già ampiamente dimostrata dell'Istituto sarà particolarmente utile.